11 anni di pena per i due fratelli Scialpi, assolto invece il più piccolo e la decisione è presa dalla Corte in composizione collegiale del Tribunale di Taranto, presieduta dalla giudice Loredana Galasso. Si tratta dei tre manduriani finiti sotto processo con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali ai danni del gestore dell'hotel Charlie di San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, nel giugno 2022. Gli Scialpi furono arrestati a seguito delle indagini condotte dai carabinieri di Manduria e Taranto. I tre fratelli incappucciati si introdussero nell'hotel con all'interno lo stesso albergatore mentre dormiva, aggredendolo e derubandolo per un valore complessivo di 50.000 euro di denaro circa in contanti e oggetti di valore. Il PM Remo Epifani aveva chiesto per tutti la condanna a nove anni, ma l'avvocato manduriano Gianluca Parco, che ha difeso il più piccolo dei fratelli, ha dimostrato l'estranietà del suo assistito. Il difensore inoltre ha anche avviato una consulenza tecnica affidata ad un esperto informatico per analizzare il traffico dei profili social del sospettato, dimostrando che nel giorno e all'ora dell'aggressione rapina si trovava in un locale di Manduria. Si attendono ora le motivazioni della sentenza che saranno prodotte entro 90 giorni.